Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo degli ESC per MiniQuad BL-Eli-S. Si tratta di questi Racer Star da 20A, se volete acquistarli vi lascio il link in descrizione. Questi ESC hanno il firmware BL-Eli-S e sono compatibili col protocollo DSHOT. Il firmware può essere aggiornato con il Betaflight Pass-Trug via BL-Eli Configurator. Se avete bisogno di aggiornarli potete seguire la mia guida cliccando il link qui in alto. Il microcontroller integrato è un BB-1 a 24MHz, questo significa che potremmo usare il DSHOT 300 o 150. In alternativa si possono usare i protocolli analogici come OneShot 125, 42 o Multishot. Questi Racer Star da 20A funzionano con batterie 2, 3 o 4S, i motori consigliati sono 2205 da 2300KV o più piccoli. Vediamo ora peso e dimensioni. La lunghezza è di 27,8 mm, la larghezza è di 12,4 mm, lo spessore è di 4,8 mm. Il peso è di 7 grammi. Come sempre in fase di costruzione vi consiglio di far fare qualche giro al cavo segnale su quello della terra, questo rende più stabile il cavo segnale ed evita interferenze che potrebbe dare il polo positivo. In conclusione possiamo dire che questi ESC Racer Star da 20A sono indicati per costruzioni a basso costo. Il supporto garantito solo per il DSHOT 300 o 150 fa sì che questi ESC non siano consigliati per chi cerca delle prestazioni migliori. Tuttavia il peso contenuto e il basso costo li rendono una valida scelta per chi vuole assemblare un micro pod da 150 mm o inferiore o semplicemente costruire un drone di riserva. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace.